buongiorno a tutti oggi parleremo di abilitazione all'insegnamento con il conseguimento dei 30 cfu anche per i docenti che sono già di ruolo è un decreto di pc m 60 cfu dentro il quale anche i docenti già di ruolo potrebbero acquisire chiaramente a pagamento 30 cfu per abilitarsi in una classe di concorso per cui hanno il titolo di accesso cioè la laurea vediamo la prima domanda sono una docente titolare sul posto comune alla scuola primaria o la laurea vecchio ordinamento di pedagogia potrò abilitarmi con i percorsi universitari 30 cfu in a 0 19 classe di concorso di storia e filosofia allora se la laurea vecchio ordinamento di pedagogia è stata conseguita entro il 1997 98 va da sé che è già titolo per entrare direttamente a poter conseguire questi 30 cfu o se invece conseguita entro l'anno accademico 2000 2001 ma in quest'ultimo caso se il piano di studi seguito abbia compreso almeno due corsi di storia tra i seguenti storia romana storia medioevale storia moderna e storia contemporanea ed almeno due corsi di filosofia tra i seguenti storia della filosofia filosofia teoretica filosofia morale allora in questo caso si può accedere all'insegnamento della classe di concorso a 0 19 anche attraverso i 30 cfu conseguendo quindi l'abilitazione abilitazione che si consegue anche a distanza senza tirocino ma con un esame finale vediamo alla seconda domanda in cosa consiste l'esame finale di abilitazione ad una classe di concorso per chi è già abilitato e si iscrive al percorso abilitante 30 cfu dunque anche per i docenti di ruolo ma non solo per i docenti di ruolo l'esame finale consiste in una prova scritta è una prova orale in cui viene presentata una lezione simulata la prova scritta consiste in un intervento di progettazione didattica innovativa anche mediante tecnologie digitali multimediali inerente la specifica classe di concorso per la quale verrà conseguita l'abilitazione domanda numero 3 il docente di ruolo che dovesse abilitarsi tramite percorsi abilitanti di 30 cfu potrebbe utilizzare tale abilitazione per partecipare a futuri concorsi a cattedra e oppure anche per le future mobilità professionali cioè per presentare domanda di mobilità professionale la risposta è semplice sì il docente di ruolo che si abilita con tali percorsi abilitanti dunque con i 30 cfu che ripetiamo vengono acquisiti attraverso l'iscrizione ad un bando delle università a pagamento acquisisce un titolo di abilitazione questo docente nella classe di concorso che ha scelto quindi potrà partecipare ai concorsi a cattedra per quella classe di concorso e potrà presentare anche domanda o di passaggio di ruolo nel caso in cui ave è titolare alla primaria e consegue un abilitazione alla secondaria oppure un passaggio di cattedra si acquisisce una abilitazione dello stesso grado del suo ruolo attraverso dunque la mobilità professionale per cui si ripete che il docente che acquisisce questo titolo abilitante può partecipare concorsi a cattedra come abilitato ma può anche fare domanda di mobilità attraverso l'abilitazione acquisita speriamo che queste disposte alle domande che abbiamo presentato in questa puntata siano molto utili ai nostri telespettatori inviateci altre domande anche in merito a questo dpcm 60 cfu che comprende appunto anche questi 30 cfu questi percorsi abilitanti che vi daremo risposte arrivederci alla prossima grazie a tutti